I fibromiuterini sono una patologia ginecologica estremamente frequente che ha un'incidenza che comincia a aumentare già nella terza quarta decada di vita e che raggiunge il 60 per cento delle donne intorno ai 50 anni di età, quindi è una problematica che i ginecologi e chiunque possa assistere queste donne deve tenere ben presente perché i fibromiuterini per quanto spesso asintomatici possono in realtà in una larga percentuale dei casi provocare disturbi alla donna che hanno conseguenze sia sulla qualità di vita sia sulla salute in generale, sintomi da sanguinamento, dolore, difficoltà nello svolgere le funzioni quotidiane. Non sempre le donne si rivolgono al proprio medico in tempi rapidi, quindi l'invito che si deve fare è quello di educare le pazienti, le donne, alla conoscenza del proprio corpo, alla conoscenza dei sintomi e l'invito anche a rivolgersi a qualcuno che le possa aiutare quanto prima.